Nell'ambito di questa manifestazione di Concrete siamo stati chiamati a portare una testimonianza anche sulle architetture industriali. Io sono una storica dell'architettura, è un focus di ricerca che da tempo concentra i miei studi, guarda e analizza e interpreta questo patrimonio, questo patrimonio industriale, che è un patrimonio importante perché presenta un catalogo di soluzioni nell'ambito del calcestruzzo armato notevole. Un mio campo di ricerca in particolare sono state le fabbriche della terra di lavoro, quella zona inclusa tra Napoli e Caserta, che in un ventennio, a partire dal secondo dopoguerra, ha investito un intero territorio e ha punteggiato in questo territorio tante architetture industriali di importanza che hanno seguito dei modelli che provenivano da contesti geografici al di fuori di quello della Campania. Questa architettura di importazione ha innestato nell'ambito della costruzione del calcestruzzo armato delle pratiche che riguardano la prefabbricazione, la cantieristica, quindi dei cantieri intelligenti e dinamici, delle tecnologie molto più appropriate e anche un linguaggio che era affine a quello della fabbrica contemporanea. Una fabbrica che anche Olivetti avrebbe portato alla sua auge, al suo periodo migliore e quella fabbrica felice che inaugurata negli anni 50 a Pozzuoli, ad opera di Luigi Cosenza, già portava un modello interessante e innovativo nell'ambito delle architetture industriali, a questo primo modello ne sarebbero seguiti molti altri che presentavano un repertorio, un palinsesto di soluzioni strutturali che rimangono a testimonianza non solo di un'epoca ma anche di una cultura progettuale. Molto importante è che noi come storici siamo chiamati a non solo conoscere ma anche a valorizzare e a poter restituire alle comunità. Questo è stato il nostro sguardo, noi siamo una rete di storici per il paesaggio della produzione e ci affidiamo alla possibilità di fare rete con le altre discipline che studiano questi fenomeni e questi repertori, proprio per consolidare un campo di conoscenza enorme, vastissimo, che aspetto ancora di essere analizzato per intero e che può fornire un catalogo davvero importante in un contesto come quello di Concrete.